In principio era Napster, poi il mondo della rete fu popolato da altri suoi figli, dei di Kazaa, Winemix e Mule ed altri ancora. Insomma, il panorama del file sharing, cioè dei programmi che permettono di condividere e scaricare file da internet, è sempre in continuo fermento. Un fenomeno che se da un lato ha fatto felici milioni di utenti, dall'altro ha messo in crisi le case discografiche. Infatti la musica è il prodotto più ricercato. Figlio di questo mondo, anche se con caratteristiche diverse, è il neo-arrivato Music. Questo software consente di ascoltare, quando si è collegato alla rete, tutta la musica contenuta su YouTube. Il padre di queste innovazioni è l'americano David Nerson, un piccolo genio di soli 15 anni. Music consente agli utenti di ascoltare la musica senza dover caricare i video e la pubblicità, il tutto gratuitamente. Interessante la funzione della playlist che trasforma il programma in una vera e propria web radio. Nonostante music ne sfrutti i contenuti e il logo, non c'è sulla carta nessun accordo con YouTube, né tantomeno con le case discografiche. Ecco perché non si sa ancora se Google o le Major contesteranno al piccolo Nelson l'infrazione delle leggi sul copyright o dei termini di utilizzo del sito americano. Giovanni Mirenna, SkyTG24